Musica Lutto nel mondo dei beni culturali, la soprintendente per l'area metropolitana di Roma, Viterbo, Eletruria Meridionale, l'architetto Margherita Eichberg, ha perso la figlia di 17 anni di leucemia. Lisa, che tutti ricordano, sempre sorridente e brillante, soffriva di leucemia. Era stata ricoverata al bambin Gesù e aveva subito un trapianto di midollo osso una decina di giorni fa. Nelle ultime ore la sua situazione però si era aggravata. Una malattia, quella di Lisa, iniziata la scorsa estate, scoperta dopo una caduta accidentale. Musica